Una solita giornata di pioggia da ancora, procediamo verso la cucina, andiamo a porta dove troviamo il mio amare, la zia Maria, stanno guardando il programma di Maria da Filippi, andiamo avanti, vediamo l'entrata, qui c'è la prorata, si guarda la stanza diretta di mia madre, il letto, il lettino di mia sorella, qui c'è un po' di confusione, andiamo a questa porta, stanza mia, salvo di Piero, qui troviamo Anna e Piero, mio padre è un annino, sta volendo la sirenetta, andiamo ad Anna, Piero, bene, io mi saluto, ho fatto bene tutta la mia casa, ciao! Aia! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.